Partirà a Gela da lunedì 8 agosto prossimo il nuovo piano per la raccolta differenziata che prevede la raccolta del vetro con il sistema del porta a porta. Sono infatti in distribuzione dei secchi verdi per ogni famiglia per il conferimento del vetro che verrà poi ritirato ogni venerdì. Inoltre all'attuale calendario è stato aggiunto un altro giorno per la raccolta dell'organico quindi potrà essere conferite lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 22 alle 5 del mattino. Il secco residuale non riciclabile dovrà essere depositato in un sacco trasparente il martedì. Carte e cartoni il mercoledì, plastiche e metallo in un solo sacchetto tutti i giovedì. A partire da lunedì parte inoltre una campagna di sensibilizzazione. Ci saranno in città tre infopoint. Il personale addetto fornirà ai cittadini tutte le informazioni utili per effettuare la raccolta differenziata seguendo le regole che questa mattina sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Messinese e dal suo vice condelega all'ambiente Simone Siciliano. Gli infopoint saranno collocati in piazza in via Rio de Janeiro e a Manfria. Rimane in ogni caso a disposizione dei cittadini dalle 8 alle 17 il centro di raccolta comunale situato sulla strada statale 117 bis Gela Catania. Tre squadre di vigili urbani e del settore ambiente vigileranno sul territorio affinché le regole vengano rispettate. Ai trasgressori saranno elevate multe da 125 euro. L'iniziativa del cambio di calendario è volta anzitutto a rimuovere dalle strade pubbliche i carrellati per la raccolta del vetro e dei metalli. Quindi è stato distribuito o è in fase di distribuzione ad ogni cittadino il secchio per la pattomiera per il vetro. È una pattomiera con un meccanismo di antirandaggismo per evitare che il vetro venga disperso per strada. mentre i metalli verranno accorpati assieme alla plastica e conferiti nel classico sacco giallo che ora è un pochettino più spesso e servirà appunto per il multimaterale leggero, plastica e metalli. Ci sono dei numeri riportati sulle brochure. C'è sia il numero della Tecra ma anche il numero del comune perché è ovvio che questa amministrazione non vuole demandare alla Tecra il controllo totale di tutto quello che avviene sul territorio. Ci sarà un nostro duplice controllo su eventuali anomalie segnalate. Stiamo facendo una campagna informativa per far comprendere come fare la raccolta differenziata ma soprattutto cosa vuol dire abbandonare i rifiuti. Il problema fondamentale non è quello di prendere necessariamente le multe che forse potranno avere degli effetti sicuramente chi è che si preoccupa di essere beccato per una questione economica ma credo che in gioco c'è qualcosa di più. Qua c'è la dignità di ognuno di noi di vivere in un ambiente pulito e forse è la cosa più difficile che può sembrare ma credo che sia la cosa più logica è quella invece di cambiare la nostra mentalità. Chiediamo massima collaborazione e è chiaro che ci sono delle nuove regole che devono essere rispettate.